Merry Merry Christmas and a Happy New Year Tanti cari auguri di Buon Natale a voi e alle vostre famiglie siamo a Salerno, mancano poche ore alla cena della Vigilia un Natale che ci porta in un momento di serenità dopo tante difficoltà un anno particolare, un avvicendamento importante al governo del paese dei sacrifici di fronte a noi, lo sappiamo, noi politici dobbiamo dare l'esempio dobbiamo farne di più, abbiamo proposto delle novità una rinuncia ai vitalizi, un taglio degli stipendi prima di mettere nuove tasse ma soprattutto chiediamo al governo Monti politiche per la crescita e per i nostri giovani un futuro che ci attende in Europa dobbiamo rilanciare questa costruzione solo con l'Europa si può salvare l'Italia e solo con l'Europa ci sarà un futuro per i nostri ragazzi, per i giovani in difficoltà e per le tante donne che sono ancora escluse dal mercato del lavoro abbiamo voglia di farlo, di costruire insieme una grande avventura, una grande speranza, una grande prospettiva un buon Natale, un grande 2012